Ben trovati al Consiglio d'Appuntamento con l'aprile Il momento della riflessione, dell'analisi, dell'approfondimento sui principali fatti del giorno In evidenza una operazione di polizia l'ennesima, per fortuna perché evidentemente ci sono anche risultati investigativi importanti sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro e del caporalato Quindi diciamo che in questo nuovo fatto di cronaca c'è la notizia buona della scoperta ovviamente di queste situazioni e quindi della efficacia dell'attività di contrasto e di repressione E' ovviamente una cattiva perché c'è l'emergere di una situazione sempre più diffusa in quanto spesso queste realtà sono venute alla luce proprio grazie all'azione di polizia In questo caso quattro aziende agricole, tutte peraltro riconducibili alla stessa famiglia Parliamo di cultura in serre in cui venivano impiegati i lavoratori in condizioni di sfruttamento Addirittura costretti ad alloggiare in tuguri veramente inabitabili Peraltro strutture abusive quindi ci sono anche altri profili criminosi che ovviamente dovranno essere perseguiti E c'è anche proprio la percezione della diffusività di questo fenomeno che ci proviene proprio dal fatto che uno dei quattro denunciati in effetti è un recidivo perché di recente era stato in quel caso addirittura arrestato proprio per la gravità degli indizi Quindi è un fenomeno sempre oggetto dell'attenzione e sul quale non soltanto quando intervengono le operazioni di polizia ma anche molto prima attraverso una prevenzione e una vigilanza di carattere sociale bisogna fare molta attenzione Ma gli argomenti che ci propone la giornata di oggi sono molto importanti Per esempio per le ex province c'è questa possibilità positiva di 150 milioni che appunto si sommano anche agli altri già destinati per cercare di metterli in sicurezza e consentire anche l'approvazione dei bilanci ma tutto questo accade in un momento in cui c'è anche lo scontro politico su questo elemento perché per quanto Musumeici si dichiari soddisfatto ma fa presente anche che certo l'obiettivo era un altro ottenere molto di più dal governo centrale e proprio dentro la coalizione di centrodestra che governa la regione si profila anche questo dissenso forte perché c'è la presa di posizione di Stefania Prestigiacomo che peraltro è politicamente molto vicina al presidente dell'Arso di Gianfranco Miccichè e quindi c'è questo dualismo nella direzione politica della maggioranza di centrodestra che dice che è uno scandalo la Sicilia è discriminata rispetto alle altre regioni ed è assurdo finanziare questa messa in sicurezza delle province attingendo agli investimenti semplicemente per alimentare la spesa corrente oggi è il 9 maggio 41 anni fa veniva ucciso Peppino Impastato un vero eroe antimafia ci ricordava il titolo e mai come in questo caso la definizione è appropriata dopo l'antimafia farlocca che le vicende più o meno recenti degli ultimi anni ma anche di molti anni a questa parte ci hanno proposto a tutti i livelli ovviamente il caso di Confindustria è il più eclatante ma non è il solo un vero eroe antimafia Peppino Impastato la cui lezione, la cui testimonianza, il cui sacrificio fino alla vita sono veramente qualcosa da tenere presente e scolpita a memoria peraltro la vicenda è importante ed è bene tenerla sempre presente sul piano anche storico proprio per quelle ombre gravissime che pezzi dello Stato gettarono sulla vicenda stessa perché non dimentichiamo che Peppino Impastato limpidissimo martire della sua lotta alla mafia fu fatto passare e per molti anni questa operazione riuscì come vittima di un attentato terroristico che gli stesso voleva compiere o al massimo di un suicidio attraverso il depistaggio che uomini dello Stato tentarono e tra le figure coinvolte anche nel depistaggio lo ricordiamo il generale dei carabinieri Antonio Sobrani condannato di recente per il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia ma gli argomenti sono anche altri peraltro il 9 maggio è anche l'anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro un'altra vicenda che segnò drammaticamente l'Italia e proprio in quelle stesse ore le due notizie ovviamente si accavallavano se non che quasi nessuno ebbe la percezione della notizia di Peppino Impastato perché appunto fu fatto passare come un terrorista maldestro che rimase vittima del materiale esplosivo che gli stesso voleva collocare sui binari lavoravano nelle serre di quattro aziende agricole di Vittoria riconducibili ad un'unica famiglia alloggiavano in tuguri maleodoranti privi di ogni requisito di abitabilità strutture abusive per le quali erano costretti a pagare l'affitto 23 lavoratori, 17 uomini e 6 donne quasi tutti di nazionalità rumena Allora dicevamo di questa operazione contro il caporalato molto importante perché ne parlavamo ieri anche a proposito dell'azione di prevenzione e di vigilanza civica e sociale che si mette in atto attraverso il protocollo d'intesa che era stato stipulato in prefettura ma questa è la dimostrazione che tutti devono fare la propria parte ovviamente in piena sinergia c'è un livello ovviamente che è quello della vigilanza civica e sociale della prevenzione e lì si può fare moltissimo per evitare che questi fenomeni possano anche lontanamente essere ideati e pensati dai criminali che li mettono in atto e ovviamente poi c'è anche un momento delle indagini della verifica, degli accertamenti quindi della scoperta degli eventuali reati e ovviamente della repressione penale in questo caso ci occupiamo di questo aspetto perché a Vittoria, nelle serre in migliaia di metri quadrati di distese quattro aziende agricole sono state controllate in tutto 26 lavoratori di cui 5 donne ma anche alcuni minori una parte era completamente priva di protezione contrattuale quindi totalmente in nero e tra questi anche due minori ma poi è anche emerso che c'era una gravità inaudita sotto il profilo delle condizioni di vita complessive perché questi lavoratori e queste lavoratrici quasi tutti rumeni erano costretti ad alloggiare in tuguri del tutto inabitabili, incompatibili con condizioni elementari di vita peraltro in strutture abusive ed erano costretti a pagare anche cifre consistenti che venivano ovviamente detratti dalla retribuzione, dal salario ma anche su questo fronte c'è un aspetto importante dell'indagine perché la polizia ha maturato il fortissimo convincimento e il sospetto che i lavoratori che comunque avevano una regolare busta paga abbiano mentito sulla effettività della prestazione economica percepita perché sostanzialmente hanno inscenato delle disposte che sembravano frutto di ammaestramento e che peraltro rendendo compatibili altri indizi è chiaro che non regge diciamo ad una verifica di credibilità però ci sono indagini in corso ovviamente questo fatto sarà accertato ma se dovesse risultare che questi lavoratori hanno mentito ancorché vittime ovviamente saranno anch'essi denunciati per favoreggiamento personale proprio per avere favorito in questo caso i datori di lavoro ad eludere le indagini segno che è un problema molto difficile ovviamente da combattere da estirpare ci vuole il massimo impegno occorre che queste persone che possono cadere vittima di questo odiosissimo fenomeno non siano lasciati soli abbiano l'assistenza la vicinanza di tutte le varie forme associative sindacali e non solo che appunto cerchino di promuovere la cultura della coscienza dei diritti perché la minaccia di perdere un lavoro perfino un lavoro segnato fortemente dallo sfruttamento non può diventare la condizione e la leva attraverso la quale persone veramente altrimenti impossibilitate anche a fare valere i propri diritti debbano rinunciare ad una condizione elementare di dignità e di vita Il gran colpo sarebbe quello di portare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Coffa lungo la Ragusa Catania dove sabato confluirà il corteo di auto e automezzi di ogni genere che inscenerà la marcia lenta per rilanciare la necessità che l'opera sia finalmente realizzata non è la prima iniziativa di questo genere già il 14 aprile di otto anni C'è chi spera che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte possa essere sabato mattina a Coffa dove è prevista la confluenza del serpentone d'auto la cosiddetta marcia lenta per mettere in campo le ragioni della protesta contro lo stop che sta assumendo l'iter per la realizzazione della Ragusa Catania L'invito è stato fatto ovviamente non c'è una disponibilità né una risposta positiva comunicata ma chissà peraltro proprio oggi e domani in Sicilia si trova il leader del Movimento 5 Stelle vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ed eventualmente anche perché il Movimento 5 Stelle ha preso a cuore la battaglia per la Ragusa Catania sia pure dal versante della posizione assunta in questo momento dal governo che è quella di dire l'opera è strategica è fondamentale è necessaria ed urgente ma non può essere fatta proprio perché va fatta bene con questo progetto di finanza che non è finanziariamente sostenibile che comporterebbe un pedaggio eccessivamente oneroso per gli automobilisti utenti e anche perché il privato selezionato non è affidabile quindi politicamente il Movimento 5 Stelle che poi ovviamente è anche il gruppo politico più vicino alle posizioni del Presidente del Consiglio Conte che come sappiamo fu scelto comunque in condominio con l'alleato leghista su questa vicenda cerca di far sentire anche la propria presenza perché è una materia che riguarda in questo caso il sud della Sicilia e chissà appunto che Conte veramente possa essere sensibilizzato fino a poter venire in questo momento l'unica cosa certa è che sabato mattina centinaia c'è chi dice anche un migliaio di persone con i rispettivi avutomezzi si metteranno in marcia ad Aragusa sulla 514 fino a Cofa dove poi ci sarà la manifestazione tutto questo perché due giorni dopo il lunedì a Roma si riunirà il Cipe e tra i temi all'attenzione ci sarà proprio il dossier sulla Ragusa Catania con la prospettiva che veramente la riunione di lunedì debba essere l'ultima nel senso che definitivamente ci sarà una parola positiva o negativa su questo progetto ricordiamolo anche il governo che sta dicendo no al progetto dice l'opera va fatta è fondamentale ma va fatta totalmente con fonti pubblici per le ragioni che spiegavamo ovviamente questo farebbe felici tutti coloro che nel territorio la comunità locale i cittadini si battono per l'opera il problema è che nessuno crede che dopo i tanti anni trascorsi quasi 20 ormai dal primo progetto di fattibilità la si possa fare celermente cambiando completamente percorso e quindi da una parte ci sarebbe la presa d'atto che sono stati sprecati moltissimi anni e dall'altro ci sarebbe la previsione abbastanza scettica sul fatto che in pochissimo tempo si possa rimettere in piedi un progetto per realizzarlo con capitale totalmente pubblico questi sono i termini della questione lo spiegava anche uno dei rappresentanti del comitato per la Ragusa Catania che si batte da tempo per la cronaca ricordiamo che quella che avverrà sabato questa marcia lenta in effetti non è una iniziativa senza precedenti proprio questa modalità di protesta fu fatta il 14 aprile del 2011 proprio quando c'era una fase di impasse del leader del progetto e allora il comitato lanciò questa idea questa marcia lenta che ebbe successo che appunto bloccò sostanzialmente la strada ma fece arrivare l'eco della manifestazione anche fuori e poi conseguentemente ci furono anche degli sviluppi positivi fino appunto all'avvio del percorso che era ormai quasi sulla soglia del traguardo quando è stato bloccato per le ragioni che dicevamo in quel caso quella manifestazione serviva anche per sollecitare l'apertura dell'aeroporto di Comisu eravamo come dicevamo ad aprile 2011 l'aeroporto era sostanzialmente completo ma non ancora aperto c'erano gli ultimi dettagli si aveva la sensazione che si stesse perdendo tempo qualcuno teneva che chissà per quale ragione l'aeroporto non si sarebbe aperto mai la protesta fu anche dedicata a quella a quella finalità a quell'obiettivo ma poi come sappiamo nella primavera del 2013 due anni dopo l'aeroporto fu aperto raggiunto l'accordo stato-regione siciliana per il salvataggio dell'ex provincia arrivano 202 milioni di euro in totale affronte dei 300 che hanno stati richiesti come minima esigenza proprio in questi giorni gli amministratori locali avevano chiesto di rinviare le elezioni di secondo livello prevista a fine giugno mentre il 15 maggio è in programma una marcia di protesta a Palermo Musmeci si dice soddisfatto le ex provincia sono sull'orlo del dissesto c'è chi annunciava protesta come il boicottaggio del voto del 30 giugno adesso però finalmente la trattativa stato-regione va in porto con un risultato che alcuni considerano positivo qualcuno troppo strevinzito e limitato ma in ogni caso consentirà la erogazione di ulteriori 102 milioni che sommati ai 100 già erogati dalla regione fanno 202 per mettere in sicurezza gli enti consentire loro di approvare i bilanci che non sono stati approvati prima e quindi evitare il dissesto tutti considerano positivo il dato ancorché insufficiente rispetto alle attese ma c'è una voce fuori dal coro che è quella dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo di Forza Italia molto vicina al presidente dell'Arse Bicicchè che spara a zero contro questo accordo attaccando musumeci perfino oltre le critiche espresse al precedente governo Crocetta dice è scandaloso peraltro finanziare questo intervento con il fondo di covesione cioè con gli investimenti e soprattutto viene puntato il dito sulla discriminazione che ne deriverebbe tra le province delle altre regioni italiane e quelle della Sicilia perché lì ovviamente il rimborso è stato fatto mentre qui è la regione che deve farsi carico di questo intervento le voci sono dissonanti in materia ma in ogni caso il dato è che appena arriveranno anche questi soldi quantomeno gli enti che non sono in condizione gravissima per esempio quello di Ragusa è fra questi a cui appunto bastano alcuni milioni per tentare di approvare il bilancio dovrebbero avviare una fase nuova 5 organizzazioni sindacali in difesa dei due vigili urbani che il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ragusa vuole mandare a processo l'accusa è di abuso omissione e rifiuto dati d'ufficio in quanto i due agenti della polizia locale si sono rifiutati di elevare una contravvenzione per diveto di sosta ad un'autovettura parcheggiata sulle strisce pedonali infatti risalgono ad un anno fa di questo caso singolare abbiamo parlato o giorni fa si tratta di due agenti di polizia locale o vigili urbani con la vecchia denominazione che vanno a processo a Ragusa perché non elevarono o al loro tempo nonostante la pressante richiesta di alcuni cittadini e dinanzi anche all'evidenza della infrazione al codice della strada una multa per diveto di sosta proprio a quella panda bianca che abbiamo visto che era parcheggiata sulle strisce rendendo anche pericoloso l'attraversamento della strada ai pedoni perché lì ci sono tante abitazioni c'era anche una situazione di particolare mobilitazione perché siamo nei pressi del palazzetto dello sport ed era in corso una partita di basket per cui alcuni cittadini segnalarono a due vigili urbani quella situazione e chiedevano che facessero qualcosa o quantomeno intanto facessero l'atto minimo dovuto che era appunto quello di multare quell'autovettura quei vigili urbani si rifiutarono scattò la denuncia la procura aveva chiesto l'archiviazione ma il GIP ha invece fissato la Camera di Consiglio il 23 maggio per l'eventuale rinvio a giudizio adesso qual è il fatto nuovo è che ben 5 sigle sindacali tutte diverse fra di loro nella loro ispirazione evidentemente politico-culturale ma scendono in campo tutte insieme a sostegno di questi due vigili urbani peraltro con argomentazioni che sorprendono perché ne citiamo così qualcuna da una parte si dice si criminalizza la categoria per il fatto di parlarne no quando si parla di fatti veri e di pubblico interesse e questi sono fatti veri e di pubblico interesse non si criminalizza nessuno si fa semplicemente il proprio dovere in questo caso da parte degli operatori dell'informazione ma qualunque soggetto sia in grado di divulgare fatti veri e di pubblico interesse anche senza essere giornalista fa sicuramente opera meritoria perché la comunità cresce e poi ci si confronta con i fatti e con la responsabilità si dice ancora prima che i fatti siano stati accertati anche questo non è vero almeno secondo un minimo di onestà intellettuale di buon senso perché in ogni caso proprio i fatti sono accertati e nessuno li contesta ancorché il processo non si sia ancora svolto tant'è che proprio nelle pieghe del divario tra la posizione della procura che ha chiesto l'archiviazione e il GIP che invece ha fissato la Camera di Consiglio perché si valuti l'eventuale rinvio a giudizio la differenza non sta assolutamente nella valutazione dei fatti che sono dati per acquisiti anzi per pacifici come dice lo stesso procuratore perché nessuno li ha mai smentiti perché c'è una inconfutabile documentazione filmata e fotografica che appunto racconta i fatti il punto semmai ecco perché la richiesta di archiviazione è se quei fatti costituiscono meno reato il procuratore ha chiesto l'archiviazione sostenendo che non costituissero reato richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del 2018 che in una interpretazione restrittiva circoscrive la definizione di atto d'ufficio rispetto al quale ci sarebbe il rifiuto o l'omissione o lo stesso abuso soltanto ad una categoria di atti in quale quindi non potrebbe rientrare questa cosiddetta multa per una infrazione al codice della strada ma è una lettura smentita da altre sentenze della stessa Corte di Cassazione ma soprattutto smentita dalla logica dal buonsenso da un minimo anche come dire di onestà intellettuale perché altrimenti significherebbe consegnare all'arbitrio più assoluto e alla discrezionalità pura qualunque atto pur importante che serve appunto a mantenere la convivenza civile come alcuni di quegli atti che sono di competenza per esempio del corpo di polizia locale tant'è che su queste motivazioni ha fatto leva la parte offesa che ha proposto opposizione contro la richiesta di archiviazione e il giudice è stato conseguente ci sarebbero violazioni perfino di principi costituzionali assolutamente fondanti se si facesse passare questo criterio tanto più che anche leggendo nelle pieghe quella sentenza dalla corte di Cassazione alla quale si richiamano o i vigili urbani o comunque chi li assiste o tutte le sigle sindacali di appartenenza in effetti la esclusione di quell'atto cioè la multa al codice della strada dalla categoria dell'atto d'ufficio è possibile soltanto nella misura in cui si possa compiere senza ritardo quell'atto dovuto anche se non lo si fa in quello stesso momento ma anche da questo punto di vista i fatti documentano pacificamente il rifiuto o comunque l'omissione perché in nessun altro momento successivo quei vigili urbani fecero nulla per provvedere al compimento di un atto dovuto peraltro anche a tutela della sicurezza proprio in quelle condizioni documentate peraltro è tutto comprovato perché quelle persone che si rivolse nei vigili lo chiesero una prima volta di fare la multa e la prima risposta fu chiami il comando come se quei vigili urbani in funzione ed in esercizio in quel momento non fossero in ogni caso gli operatori cioè diretti interlocutori del cittadino che appunto alla forza di polizia municipale si rivolge e poi dietro ulteriori richieste arrivarono a negare che la macchina si trovasse sulle strisce al che quei cittadini chiamarono i carabinieri che dettero le indicazioni filmate fotografate e poi eventualmente fate denuncia addirittura uno dei presenti chiamò un finanziere perché abitava nello stesso suo palazzo lo fece scendere in strada proprio perché si rendesse conto della cosa ma nessuno di questi fatti indusse nessuno di quei due vigili urbani a fare appena appena il proprio dovere oggi vengono i sindacati a dire che il loro comportamento sarebbe stato corretto che solo parlarne infanga non tanto loro ma addirittura l'intera categoria il che è veramente un assurdo logico perché comunque la responsabilità penale è personale e ci si confronta con la verità dei fatti e con le proprie responsabilità e poi addirittura si dice che l'unica colpa di questi due vigili urbani sarebbe che questa è una categoria come dire poco simpatica ai cittadini quindi vittima del fatto che anche quando fanno il loro dovere perciò solo sono soggetti appunto alle critiche alle insobordinazioni dei cittadini bene proprio in questo caso l'esempio è del tutto sbagliato e ci sorprende come tutte e cinque le organizzazioni sindacali possono cadere in questo abbaio questa argomentazione che oggettivamente è fondata ed ha senso purtroppo è quella che si rivela in una situazione del tutto contraria alla realtà di questo caso immaginiamo ovviamente la irascibilità la suscettibilità la difficoltà di ciascuno anche come dire persona normalmente onesta e per beni ad accettare magari una multa che venga combinata per esempio per un diverso di sosta ma qua siamo in presenza esattamente del contrario cioè cittadini hanno segnalato ai vigili urbani incaricati di pubblico servizio una infrazione patente sotto i loro occhi affinché intervenissero e loro si sono rifiutati è proprio il contrario quindi tutte le argomentazioni messe in campo da queste organizzazioni sindacali e sorprende la unanimità di tutte queste sigle a sostegno di una causa del tutto sbagliata la commissione antimafia dell'assemblea regionale siciliana ha deciso di avviare due nuove indagini una prima sul rapporto mafia politica con particolare attenzione alla permeabilità delle istituzioni e delle amministrazioni siciliane la seconda sull'attentato all'ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci il percorso di lavoro prevede l'audizione dopo la fase molto impediativa e anche importante con una relazione finale apprezzata da tutti e approvata all'unanimità sul caso montante la commissione antimafia dell'assemblea regionale siciliana apre un nuovo ciclo di impegno con due indagini altrettanto importanti quella sui rapporti tra mafia e politica perché questo è il vero fronte da indagare da esplorare proprio per cercare di capire e quindi anche bloccare limitare l'azione devastante anche sul piano civile e sociale della mafia laddove appunto si avvalga di zone grigie e di aree di collusione appunto con il mondo politico e delle istituzioni e l'altra riguarda la vicenda Antoci Giuseppe Antoci ricordiamo l'ex presidente dell'ente parco dei Nebrodi il quale nella notte fra il 16 e il 17 maggio del 2016 anzi mi correggo la notte fra il 17 e il 18 maggio del 2016 fu vittima di un attentato nel quale miracolosamente appunto scampò ad una esecuzione sicura ci sono state tante indagini negli anni successivi non si è mai venuti a capo di niente perché l'unico filone di inchiesta che arrivò ad un certo punto poi si conclusa con l'archiviazione e nel frattempo tanti elementi sono affiorati per cui qualcuno dubita che ci sia qualcosa di strano in questa vicenda e quindi adesso la commissione regionale antimafia vuole vederci chiaro andando anche oltre ovviamente l'oggetto dell'indagine specificamente proprio di una inchiesta penale per compretezza di cronaca diciamo che di recente Report la famosa trasmissione giornalistica d'inchiesta di Rai 3 ha dedicato appunto una puntata importante al sistema montante e dentro questo sistema ha collocato anche l'attentato a Giuseppe Antoci ovviamente non ci sono elementi chiari perché si possa dire ciò questo è doveroso assolutamente precisarlo anche perché l'unico collegamento con il sistema montante scaturiva e scaturisce dalla figura di Giuseppe Lumia beh Lumia è un ex senatore senatore fino al 2018 lo è stato dal 94 al 2018 che ha messo in campo sempre una identità di politico antimafia che molte vicende recenti hanno fortemente messo in dubbio e messo in discussione tant'è che è fortemente implicato in tante situazioni che sono anche oggetto dell'inchiesta che ha portato in carcere Antonio Montante di cui lui è stato un grande mentore e un grande consigliere oltre che ideatore appunto del governo Crocetta proprio per le ragioni che conosciamo effettivamente Lumia è sempre stato vicino ad Antoci e quindi come dire ne ha in qualche modo segnato anche la stessa vicenda però prendiamolo come un dato del quale prendere atto semplicemente in attesa che eventualmente si possa scoprire altro fino a questo momento si sa soltanto che ha rischiato seriamente la vita del resto lo stesso Antoci appena ha saputo di questo ciclo di audizioni ha detto sono lieto sono felice che si possa fare indagini perché io so come la mia vita sia stata stravolta so quello che mi è successo se qualcuno ha dei dubbi si faccia avanti e comunque andiamo in fondo nella ricerca della verità eroe antimafia due parole che negli anni sono andate sempre più spesso a braccetto dietro geste e grandi discorsi di aperto contrasto alla criminalità organizzata ma che negli ultimi tempi hanno anche conosciuto la macchia della strumentalizzazione per fini personali il fine personale di Peppino Impastato era quello di liberare se stesso e il suo piccolo paese dal cancro del potere mafioso Cinisi e la Sicilia intera Il 9 maggio del 1978 fu un giorno drammatico per la vita italiana fu il giorno in cui fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro che era stato sequestrato il 16 marzo precedente dalle Brigate Rosse quindi questa notizia ovviamente offoscava tutte le altre ma una delle notizioni che a stento furono date anche dai TG nazionali per esempio ricordiamo la velina del TG1 riguardava invece il ritrovamento di un corpo senza vita sui binari della ferrovia a Cinisi di un giovane di nome Giuseppe Impastato la notizia fu data in maniera scarna per dire che sostanzialmente il presunto terrorista era rimasto vittima di un tentativo di attentato di Namitardo tant'è che i mafiosi avevano fatto trovare anche del materiale esplosivo insieme al suo corpo ma questo depistaggio non fu soltanto dei mafiosi fu anche di pezzi dello Stato in particolare degli investigatori i carabinieri cioè del tempo allora proprio da poco tempo era arrivato al comando del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Palermo il maggiore Antonio Subranni allora 46enne il quale indirizzò subito le indagini verso la pista dell'attentato terroristico quindi per molto tempo questa fu la verità che fu offerta purtroppo alla pubblica opinione certo quelli che conoscevano i fatti dall'interno a Cinisi ma anche nell'interlande vicino sapevano che era tutt'altra la storia ed era la storia di un giovane che allora aveva 30 anni un attivista brillante un giornalista che peraltro aveva compiuto nella sua piccola attività giornalistica senza essere ancora iscritto all'albo una inchiesta importante apriamo quindi e qui diamo una parentesi sulla strage di Alcamo Marina due anni prima erano stati uccisi due carabinieri nella stazione periferica di Alcamo Marina anche lì ci fu uno dei più grandi depistaggi della storia italiana perché furono incriminati dei giovani che non c'entravano nulla furono oggetto di torture perché rendessero delle confessioni uno di loro fu anche ucciso furono condannati ma in effetti erano completamente estranei i veri responsabili di quell'omicidio di Alcamo Marina di quel duplice omicidio di Alcamo Marina furono probabilmente figure mafiose o legate all'affare Gladio ma l'indagine non fu mai fatta con verità soltanto molto dopo si è scoperta la verità sia pure senza poter scoprire i responsabili tant'è che uno di questi giovani condannati è uscito dopo 22 anni di carcere da perfetto innocente chiusa questa parentesi proprio Giuseppe Impastato nonostante fossero passati appena due anni quando lui muore rispetto alla strage di Alcamo Marina si era occupato di quel fatto aveva un faldone a casa sua con gli atti di questa inchiesta e alcune ricerche che aveva fatto ma questi atti furono sequestrati il giorno in cui Impastato fu ucciso e furono sequestrati dai carabinieri e mai più restituiti a differenza di altri documenti ed effetti personali alla famiglia tornando a Peppino Impastato Peppino Impastato peraltro proprio quando fu ucciso era candidato al consiglio comunale di Cinisi lui poi sarà eletto come dire post morte perché ci fu un voto comunque sull'onda anche dell'emozione popolare ma sostanzialmente è importante dopo 41 anni e sarà dovrà essere sempre così per molto tempo ancora tenere viva la lezione cioè di questo giovane che appartenendo ed essendo nato in una famiglia mafiosa perché era mafioso il padre erano mafiosi gli zii era un capo mafia del paese il cognato del padre che fu appunto poi ucciso quando prese il sopravvento il vero posto mafioso appunto dei centopassi Itano Badalamenti che appunto lo face uccidere perché Peppino Impastato proprio dall'interno della sua famiglia si rivoltò contro la mafia fece una importante azione di denuncia sia sul piano dei fatti perché appunto agiva e fu anche un bravo giornalista sia sul piano anche del dibattito politico che teneva sempre alto un esempio da tenere presente specialmente in una fase storica nella quale da un decennio almeno a questa parte siamo stati tutti come dire contaminati dall'antimafia farlocca dall'antimafia degli imbroioni e dell'impostura che ha lucrato proprio nel nome della battaglia antimafia invece c'è chi proprio per essersi opposto alla mafia ha dato la vita bene questa era l'ultima notazione grazie appuntamento come sempre a Dopo il Tg grazie